ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con le risposte ai vostri commenti era un po che non rispondevo infatti i commenti si sono accumulati come al solito i commenti con su scritto bravo complimenti bel video dico già in anticipo grazie a tutti perciò partiamo con il primo commento oh yeah sotto al video urbex proprietà privata quello di quando eravamo andati alla villa come si chiamava il palazzo d'oro quello il nome lì nella provincia di pavia che abbiamo trovato chiuso murato scrive marco forse dimenticato la via il numero civico già che c'eri davvero geniale nessuno ti ha mai detto che tutti i luoghi hanno una proprietà e che si è sempre in proprietà privata no lo ignoravi no che non lo ignoro ma poi proprio tu mi vieni a dire queste cose allora io so benissimo quello che faccio e tantissime volte sono stato contattato proprio dei proprietari dei posti abbandonati che mi hanno ringraziato per il lavoro che faccio soprattutto in casi come questo in cui dico che il posto non è più abbandonato non si entra è stato murato ma guarda un po ma poi proprio tu mi vieni a dire queste cose tu che sei quella che va nei posti abbandonati accompagnata dagli amici in ergumeni armati di spranghi a cercare la gente guarda che le voci girano e guarda che ormai tutti sanno che persona sei quindi non venire proprio tu a farmi la predica no 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 proprio no ma andiamo avanti con i commenti sotto all'ultimo video con le risposte vostri commenti con l'ultima grigliata l'agua maggiore ombre e oltre scrive cavoli che acqua limpida e hai ragione dice un'acqua che è sempre bellissima purtroppo il livello dell'acqua si è abbassato un paio di metri quasi rispetto a quello che dovrebbe essere però l'acqua è stupenda soprattutto perché il fondale è di sassi quindi non si può inturbidire con terra o sabbia è bello pulito e anche le condizioni chimiche batteriologiche dell'acqua in quel posto dovrebbero essere proprio belle perché lì non ci sono scarichi vicino sì qualcosa c'è ma più a sud e la corrente porta a sud sotto il video dell'esplorazione al cimitero di canegrate jerk me off scrive minia nessun segno di vita e certo sono tutti morti hai ragione sono tutti morti sì è un cimitero però sai qualche volta magari qualche anomalia può essere riscontrata invece lì in quel posto nulla però è sempre un posto interessante sempre sotto l'ultimo video delle risposte ai vostri commenti danni scrive marco e viva la schiettezza tra le varie cose che mi piacciono di te la coerenza è la prima che ti contraddistingue e che apprezzo molto quindi pur non essendo sempre d'accordo con te sono d'accordo con te pensiero contorta ma certa di essere compresa un abbraccio un abbraccio anche a te sì 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 ho capito quello che vuoi dire e guarda io preferisco magari dirti direttamente le cose quello che penso come penso piuttosto che girare attorno complicare il tutto che poi non si capisce niente la comunicazione non c'è più perché si pensa più a costruire frasi arzigogolate piuttosto che comunicare direttamente io preferisco essere diretto sempre sotto lo stesso video con risposte ai vostri commenti andrea scrive ciao marco riguardo le cover band è vero i beatles hanno iniziato a suonare musiche di altri ma quando sono stati nel 1961 ad hamburgo suonavano canzoni composte da lennon mccartney scritte da loro poi il primo album del 63 please please me era composto quasi tutti da pezzi scritti da loro con qualche cover ciao ciao a te e ragione è vero i primi dischi avevano su fai metà metà erano metà canzoni loro e metà canzoni cover ma già da dopo cos'è terzo quarto disco adesso non mi ricordo in ordine comunque poi hanno iniziato a fare i dischi con solo musica loro quindi il discorso che aveva fatto il tizio che diceva e quelli sono diventati famosi hanno sempre fatto cover no non è vero ma il commento ha un contro commento in cui sempre andrea scrive favoloso il posto dove siete stati a fare la grigliata eh sì come ho detto prima è proprio un bel posto a parte l'acqua limpida come è stato già detto ma anche il posto è bello perché ci si sta bene basta portarsi la griglia io il gazebo per l'ombra così stanchi in ombra mi porto anche una sedia ma bastano due teri per terra e si passa davvero una bella giornata in un bel posto sotto al video dell'esplorazione al sanatorio di medosho sempre jack mayoff scrive minga questo sembra chiaro perù quando parla è la mia voce che tra l'altro me ha detto in tanti questa cosa però più che sembro perù sia io che lui abbiamo la voce da basso e questa è la voce da basso se vuoi vado anche più in basso sì 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 molto in basso a parte gli scherzi è una comunissima voce da basso più o meno tutti quelli che hanno la voce da basso hanno questa voce qua sotto il video dell'esplorazione del reparto pediatria dell'ex manicomio di mombello max scrive ciao marco ogni tanto riguardo i tuoi vecchi video ed è sempre un piacere ma in particolare manicomio di mombello grazie a te è stata la mia prima esplorazione un giorno mi piacerebbe fare un'esplorazione in tua compagnia tra l'altro non abitiamo troppo distanti ovviamente quando il tuo gomito ok un saluto massimo un saluto anche a te e guarda per fare esplorazioni basta che non ci sia da rampicarsi anche col gomito impossibilitato le faccio lo stesso come ho fatto le ultime esplorazioni per quanto riguarda l'invito yeah dai organizziamoci adesso adesso magari no da settembre in poi organizziamoci troviamo un bel posto dove andare e andiamo oh yeah sotto il video dell'esplorazione alla discoteca il maneggio marco scrive quanta gnocca quanti ricordi con dj mauro mbs una serata ho mixato pure io e cavolo figata immagino che bello che deve essere stato mixare lì oddio io sono musicista per me sarebbe stato più bello suonare ma quella è una discoteca ci va il dj e tu eri nel posto giusto al momento giusto e deve essere stata proprio una bella esperienza complimenti sotto il video in cui parlavo dei reclami falsi per copyright su youtube danni scrive ciao marco super sgamato bravissimo diffidate gente diffidate comunque il fatto che tu abbia ragionato questo inconveniente è dato dritte a chi ti segue per evitare fregature simili ti fa onore e io molto apprezzato buona serata buona serata anche a te e questa cosa di aver dato qualche istruzione anche se proprio semplice semplice perché di più non saprei cosa fare mi sembra il minimo visto che tra l'altro conosco anche altra gente che è stata segnalata da questi simpaticoni che segnalano ormai in tutto il mondo mi sembra giusto per chi ancora non fosse stato segnalato da loro almeno bloccateli bloccateli almeno non trovano il vostro canale e non vi possono segnalare per copyright tutto qua sempre sotto lo stesso video andrea scrive marco gente furba unione brasileira ho visto tanti video stesse immagini cambia musica sì a parte questa cosa che cambiano la musica ma mettono sempre lo stesso video ma forse non sono loro ma è quell'altro l'autor latino perf quello lì forse e comunque a parte questo che quelli sono affari loro ma continuare a segnalare tutti è proprio una gran bastardata e io ho cercato di dare una soluzione però se qualcuno ne avesse altre magari più efficaci sarebbero gradite sempre sotto lo stesso video viral paranormal team scrive noi cerchiamo la musica free copyright per i video ma continuano a segnalarci per violazione del copyright appunto sono proprio questi questa gente qui più che altro brasiliani e sudamericani che segnalano qualsiasi cosa anche se non è loro voi usate musiche libere da copyright ma figuratevi hanno chiesto i diritti anche per musica mia composta da me e hanno chiesto diritti ho visto non solo a me ma anche altri per canzoni famose tipo canzoni che so dei metallica dei beatles loro reclamano i diritti su quelle lì e purtroppo youtube non fa niente quindi dobbiamo organizzarci noi e ripeto se qualcuno ha qualche soluzione condividetela fatelo sapere il più possibile in giro grazie ancora sotto lo stesso video urbex hockey di gatto scrive ciao marco anche noi sul nostro canale abbiamo diverse contestazioni per la musica seguirò i tuoi consigli grazie cavolo ma proprio un'epidemia di contestazioni e magari quelle contestazioni sono sempre fatte dagli stessi che ho detto io fammelo sapere sotto il video dell'esplorazione della brenta pre compressi ryuga wolf scrive ridotto parecchio male questo posto per fortuna di amianto a parte qualcosa nei capannoni enormi pare essere assente però quella fanghiglia mista chissà quali prodotti rilasciati è la cosa peggiore in ogni caso è davvero un disastro generale anche perché come al solito vandali ladri hanno contribuito anche qui come al solito grande marco bellissima esplorazione come sempre grazie e questo posto in effetti almeno l'amianto le cose le cose che stavano in alto sono state bonificate però tutti quei fanghi sono scarti infatti sono in basso e quelli non sono belli è vero che il pavimento della vita è tutto di cemento quindi dovrebbe proteggere la terra che c'è di sotto però il cemento dopo un po si crepa si rovina assorbe e lì mi sa che anzi non mi sa le avevo anche riprese ci sono già crepe nel terreno è già tutto che sta colando nel terreno è uno schifo e il bello è che dopo l'omicidio che c'è stato che hanno ritrovato il cadavere bruciato avrebbero dovuto mettere in sicurezza e avrebbero dovuto finalmente bonificare invece non è stato fatto niente come visto sono entrato tranquillamente sono entrato sono uscito ho girato tutto e niente è di così sempre riega wolf sotto il video dell'esplorazione alla tintoria zervi scrive che scempio davvero nell'incuria più totale è stato lasciato questo posto avete avuto molto coraggio ad entrare con tutto quell'amianto sparso dappertutto questo posto è davvero un pericolo totale per l'ambiente sì in effetti andrebbe bonificato il più presto però coraggio per entrare no guarda eravamo ben attrezzati con mascherine e tutto quindi bene o male le vie respiratorie erano protette poi basta non toccare l'amianto che c'è a terra basta girarci attorno però davvero li hanno fatto uno scempio e il brutto è che proprio di fianco al fiume è ancora peggio dell'amianto c'è il mercurio nel terreno sotto il video dell'esplorazione alle ville nel bosco di bustorsizio zacros wacros scrive mi scusi mi può dare la via esatta perché sono troppo curioso per piacere mi piace la gentilezza mi scusi per piacere no guarda dammi del tu tranquillamente comunque questo posto è a bustorsizio vicino all'uscita dell'autostrada dove c'è la giardineria se tu cerchi bustorsizio giardineria lo trovi di fronte dall'altra parte della strada c'è l'ingresso sterrato che entra dentro nel bosco dove all'inizio subito c'è quello che era un agritulismo in più andando dentro al bosco inoltrandosi all'interno c'è questa villa e se non sbaglio c'è neanche un'altra che io non avevo trovato bisogna andare un po' oltre per trovare questa villa che ho ripreso in questo video la cosa più facile da fare è da quando si entra nel nel bosco nella parte sterrata di fronte alla giardineria come punto di riferimento guardare in alto che c'è un'antenna con i ripetitori telefonici e questa antenna è proprio di fianco alla villa in mezzo al bosco isolata di così e c'è un'antenna in mezzo alla villa quindi se non si dovesse trovare guardando in alto si va in un punto dove c'è un po' di spiazzo e si vede tranquillamente l'antenna che indica la direzione dove andare quindi buona esplorazione sotto il video del ritorno alla cartiera aquila yoga wolf scrive bastardo ragno e ti trovi rovi pungenti e fastidiosi in quasi ogni esplorazione comunque amianto polveri oli materiali spazzatura che schifo non so se sia peggio questo o l'insa come pericolo ambientale quel povero fiume non ha avuto e non ha tuttora pace con le schifezze che ci hanno buttato dentro e che negli anni ci andranno da sole e che anche nel terreno andranno purtroppo hai ragione questo posto è davvero uno schifo tra l'insa e questo guarda caso sono di fianco uno di fianco all'altra e tutti e due che rilasciano nel fiume nel terreno però finalmente almeno l'insa la stanno mettendo in sicurezza davvero e fra un po' anche questa stiamo spingendo stiamo io ho fatto il possibile adesso altri stanno facendo il possibile loro per spingere a bonificare anche questa comunque in questi giorni tutti i comuni lungo l'olona stanno firmando un accordo per organizzare e realizzare la bonifica finalmente del fiume e in più oltre a sistemare tutte queste fabbriche abbandonate soprattutto regolamentare sistemare tutti gli scarichi di tutte le fabbriche che sono attive e anche gli scarichi dei comuni perché alcuni non sono in regola e in più cercare anche scarichi abusivi che ci sono e vengono regolarmente segnalati da cittadini e quindi si spera che il fiume progressivamente vada migliorando e qui lungo l'olona c'è chi si sta impegnando per realizzare questa bonifica questa sistemazione del fiume farlo ritornare un fiume sarebbe bello che in tutta italia se c'è qualcosa di inquinato un fiume un lago in qualsiasi posto da mettere a posto che la gente insistesse perché lo so che poi ci sono posti come la terra dei fuochi e anche quei lombardia non siamo messi troppo meglio perché anche questi sono rifiuti nascosti sotto i campi però per quello che è possibile fare io lo dico sempre più si insiste con chi di dovere tipo amministrazioni forze dell'ordine chiunque abbia la responsabilità sul territorio bisogna insistere con questi più si insiste più cittadini insistono più glielo fanno notare più denunce gli arrivano più segnalazioni arrivano meno possono far finta di niente infatti è anche così che si sta facendo qui lungo l'olona sotto il video numero 11 delle risposte ai vostri commenti sempre riega wolf scrive grande marco anche a me piacerebbe proprio passare la notte sotto le stelle visitando qualche posto spero possa farlo ormai prossimo anno interessante davvero la spiegazione sull'oggetto che usi quando suoni non ne sapevo niente addirittura si usavano i colli di bottiglia comunque chiarissima spiegazione per le note grande marco grande tu che fai tutti sti commenti interessanti tra l'altro e comunque sì una volta si usava il collo di bottiglia per fare bottleneck vediamo magari ce l'ho qui da qualche parte eccolo qua sempre a portata di mano e come vedi la forma è quella è un cilindro e quando i poveracci perché all'inizio erano i neri che suonavano il blues e non era di certo gente ricca non potevano permettersi di andare al negozio strumenti musicali già se riuscivano a comprarsi lo strumento di fortuna era buono per tutti gli altri accessori tipo cinghia della chitarra una corda questo qua andare anche in negozio a parte che non esisteva non hanno inventato loro sto sistema un cilindro poi è stato inventato cilindro di vari materiali però all'inizio sì proprio sì si usava il collo di bottiglia per quanto riguarda il passare la notte sotto le stelle vacci fallo perché è davvero una figata e adesso in questi giorni sta piovendo però fino a settembre fino a metà fino a settembre che non fa ancora freddo se basta che hai un sacco a pelo un maglione vai è bello ti trovi un bel posto dove andare e vai vedrai che quando torni ti sentirai rigenerato sotto al video dell'esplorazione del bar fugatore sofia scrive grazie per avermi fatto ritornare indietro nel tempo ho ricordi bellissimi lì erano la mia ex suocera e la mia ex cognata e una mia amica è stata una strage un gran dolore sarei dovuta essere anch'io una vittima ma il destino mi aveva portato già lontano e fatto prendere un'altra strada cavolo che brutta storia cioè tu conoscevi quelli lì che sono stati uccisi erano tua suocera tua cognata brutta storia mi dispiace sotto il video dell'esplorazione alla miniera cavallizza emanuela scrive a parte oh yeah che sai fare lo speleologo mi sta bene ma per le indagini lascia stare guarda a parte oh yeah so suonare faccio viaggi in kayak viaggi non giorni così viaggi lunghi impegnativi cose che probabilmente tu non sai fare so fare montaggi video so fare grafica so fare gioielli so fare lavori artigianali so lavorare legno il ferro la pietra so suonare tanti strumenti e invece tu e poi se le esplorazioni come le faccio io non ti piacciono vai a guardare quelle dei pit e quelle dei dei sedicenti ghost hunters che fanno tutte le scene oddio mi segue il fantasma devo scappare io non farò mai una cosa del genere no proprio no quindi se ti piace quel tipo di esplorazioni vai a vedere quei video sotto il video dell'esplorazione al cotonificio cantoni di saranno brigitte scrive ciao sono brigitte sono una disegnatrice per tessuti che lavorava negli anni 80 alla cantoni mi ha fatto dispiacere vedere in che stato hanno lasciato la ditta io abitavo a milano disegnavo lavoravo e mangiavo alla cantoni saluti saluti a te e grazie per la tua testimonianza e poi yoga wolf riesuma un vecchio video di cinque anni fa quello in cui dicevo che sono stato coerenato e scrive è sparito il mio commento pensa che ai tempi avevo un canale che è stato bannato perché a molti dava fastidio comunque è inutile dirti che sei un grande fai ogni cosa con il cuore ed è questo l'importante sei ultra simpatico anche se ancora non ci siamo mai visti di persona ma immagino tu sia naturale come fai ogni video e ti stanno a cuore chi ti segue sei una persona giunta spontanea ora che mi ricordo l'esplorazione di anni fa le facevi con questa persona ho sempre pensato sia stata invidia o chissà cosa nella sua testa e qui mi censuro comunque inutile rivangare il passato perché un video di ben cinque anni fa e mi auguro che le cose si siano risolte e questa persona sia fuori dalla tua vita in ogni caso e sarò sempre a tuo fianco in ogni cosa per la stima che provo per te grazie di tutto quello che hai detto allora questa persona io non l'ho più cagata proprio perché non mi interessa niente non mi va neanche di litigare di fare discussioni inutili quindi via nel suo brodo il fatto è che mi sono arrivate sei segnalazioni per per luoghi che ho esplorato che molto probabilmente alcune sicuro è qualcun'altra probabilmente arriva da lei anche perché tutte le altre che mi sono arrivate era tutte le altre una sola mi è arrivata che non sia di quel genere lì di uno che mi ha denunciato per diffamazione per un video che avevo fatto sulle terme di gaverina che non erano più abbandonate e chi aveva fatto quel video mi ha denunciato ma la denuncia è finita nel nulla perché avevo ragione io ma aveva detto il proprietario dell'albergo delle terme di fare quel video sotto il video numero 16 con le risposte ai vostri commenti matteo scrive ciao con la mia band da oltre 30 anni continuiamo a suonare i nostri brani e ovviamente le serate live sono sempre meno i musicisti professionisti hanno capito che si guadagna di più a fare tributo rispetto ad insegnare perché oggi rispetto al passato la stragrande maggioranza delle cover tribute band è formata da loro ovvio che chi li vede dice bravi questi dal mio punto di vista chi fa musica propria non esiste buona cattiva può piacere o no se no band ora famosissime copiate con suoni per alcuni inascoltabili non sarebbero diventate tali buona giornata buona giornata anche a te e ti do ragione su tutto a parte che anche tu hai testimoniato che facendo musica propria le serate sono sempre meno e sempre più difficile trovarne ma questa cosa dei musicisti professionisti che invece di insegnare fanno cover tributi ma è sbagliatissimo ma vai a suonare per qualcuno che compone musica ma sai quanti compositori ci sono che cercano musicisti e questi invece di suonare di fare un no loro vanno sul sicuro vedi quindi è come dicevo io lo fanno per soldi e basta e senza un minimo di rischio perché va bene vuoi suonare vai a suonare per qualcuno che compone musica sua fa i session man invece no loro vanno proprio sul sicuro a fare il tributo a qualcosa di già noto conosciuto che già piace alla gente a parte che anche facendo i session man verrebbero pagati però no loro vogliono proprio il sicuro 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 al 100 per cento e questo secondo me è uno schifo per quanto riguarda la musica originale sono d'accordo anch'io non c'è la musica bella la musica brutta la musica buona la musica non buona secondo me ogni musica ha il suo valore poi sono gusti può piacere può non piacere esattamente come scritto tu e cavolo quando sento gente che dice ah io ascolto la vera musica tutto il resto fa schifo non è musica e rumore 99 per cento sono o metalloni o jazzisti che fanno sto ragionamento o gente da conservatorio è un ragionamento che fa capire che questa gente ha una cultura musicale molto limitata conosce le sue cose quello che fa quello che quelle quattro cose che conosce tutto il resto non lo conosce dice cacca perché non si è mai sbattuto a capirlo perché anche a me certi generi mi piacciono meno di altri però cerco di capirli e non è che me li faccio piacere poi magari mi piacciono per dei particolari per altri particolari invece no e comunque come hai detto tu non esiste la musica vera o non vera musica buona non buona c'è la musica che piace a qualcuno e c'è la musica che piace a qualcun altro tutto qua sotto il video del giro del lago d'orta antoros scrive complimenti per il video anche io mi figlio abbiamo fatto il giro del lago d'orta in kayak in due giorni l'acqua del lago è pulitissima e ci sono posti bellissimi da visitare ritorneremo ancora per visitarlo meglio buona pagaiata e sì hai ragione è davvero un bel lago con acqua pulita ce ne sono anche di più puliti però quello è molto bello e molto particolare con l'isolone in mezzo bella da girare anche quella c'è tutto il percorso che gira attorno belli anche i paesi attorno orta o migna e le spiaggette che ci sono sparse in giro è proprio un bel lago poi sotto all'ultimo video del braccialetto ricavato da un trasformatore simone scrive ciao marco ma non risulta tossico l'ossido sulla pelle vorrei darti un consiglio per chiudere il bracciale sarebbe ottimale una saldatura in stagno l'ossido no perché non c'è non ossida il almeno il rame che sto usando così quando faccio i bracciali è nuovo e quindi non è ossidato prima che si ossidi io gli passo su una mano di vernice smalto trasparente acrilico in modo che non si ossidi mai e anche chi ha allergie al rame o anche al ferro e anche alla pietra io su tutto spalmo questo lucido spalmo spruzzo questo lucido trasparente perché in questo modo crea una pericola protettiva che poi si vetrifica sopra quindi per toglierla bisogna proprio andare con una carta vetrata per toglierla e insomma anche chi è allergico a vari metalli non risente delle allergie con quello che faccio io perché appunto è tutto ricoperto per chiudere il bracciale si lo so saldatura stagno ci sta bene infatti in altri bracciali soprattutto in anelli lo sto facendo questo cui però ci stava bene così fatto così e l'ho fatto in questo modo comunque grazie del consiglio sempre sotto lo stesso video walking track scrive marco prendi un tondino di alluminio di almeno 12 mm e su un lato fai un foro da 6 8 mm dove ci inserisci fili di rame l'altro lato fissalo al trapano vedrai che non ti scapperanno più comunque bel lavoro e guarda ho trovato un sistema ancora più semplice senza fare nessuno sbattimento prendo i fili attorciglio su di loro su se stessi l'ultimo centimetro e mezzo lo ripiego questa volta fatto in questo modo il mandrino tiene alla perfezione e non si staccano più comunque grazie del consiglio anche a te e arriviamo così all'ultimo commento di ryuga wolf sempre allo stesso video del bracciale ricavato da un trasformatore grande marco video molto interessante ti consiglio e non sono esperto assolutamente quindi dirò sicuramente una cazzata e mi scuso anticipatamente di un trapano con velocità da regolare per fare i lavori di precisione io ne ho preso uno della dexter all'erua merlin a 50 euro che fa delle cose più leggere alle cose più impressionanti senza chiudere il mandrino con la chiave e fino a poco tempo fa usava un black and decker degli anni 80 arancione che faceva benissimo il suo lavoro ma per bucare certe cose o per precisione ormai era diventato instabile anche perché era stato sotto le piogge torrenziali dall'autunno 2019 anche se sta coperto però noto che il tuo è ottimo anche per questi lavori precisi sì hai ragione questo trapano che ho usato che sto usando è un bosch da 3700 giri al minuto qualcosa del genere il suo lavoro lo fa bene però hai ragione io dovrei usare qualcosa che abbia le velocità regolabili quindi potrei usare il dremel che quello sì che ha le velocità regolabili e anzi potrei provare a fare anche dei bracciali delle collane con delle strisce intrecciate in sensi diversi e per questo mi serve un avvitatore e ho anche quello quindi proverò a usare sia il dremel che l'avvitatore grazie comunque del consiglio per oggi con i commenti abbiamo finito voi continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed music and travels iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video condividete i video commentateli magari lasciate anche un like iscrivetevi anche ai miei gruppi su facebook urbex mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak dove trovate tutte le mini guide per viaggi in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori in pietra ferro e rame e il video appuntamento al prossimo video oh yeah ciao 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 ciao